Buongiorno a tutti, bentrovati a Friuli in diretta, in apertura. Oggi due gravissimi incidenti accaduti nelle ultime ore sulle strade della nostra regione. C'è un incidente mortale accaduto poco prima della mezzanotte ed è deceduto un motociclista di Mestre dopo uno scontro con un tir all'imbocco dell'autostrada. Nella notte incidente mortale per un motociclista sull'autostrada A34 in direzione Villesse. Come si vede dalle immagini realizzate dalgoriziano.it, stando a quanto comunicato dalla Sores, l'incidente è avvenuto alle 23.33 di mercoledì 17 aprile per cause che sono ancora in corso di accertamento. Un motociclista veneto di Mestre per l'esattezza classe 1957 e T, le sue iniziali, stava percorrendo l'A34 tra Gorizia e Gradisca di Sonzo, direzione Villesse. E secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato travolto da un tir guidato da un uomo di 60 anni proprio poco dopo l'imbocco dell'autostrada. Gradisca trascinato poi per alcuni metri è finito, vicino a un altro tir che era fermo in una piazzola per la sosta notturna. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari della Sores, i vigili del fuoco e due pattuglie della polizia stradale. Ma per il motociclista non c'era nulla da fare. La corsia è stata chiusa per i rilievi del caso e per questo ci sono stati anche dei rallentamenti al casello verso l'A4. Intanto proseguono le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente costato la vita al motociclista di Mestre. E poi c'è stato un altro incidente molto grave che appunto è riguardato invece una 25enne di Latisana che è finito nel fosso con la sua macchina nella notte. In quel fosso tra l'altro c'era anche dell'acqua. È gravissimo. Andiamo a vedere il servizio. Brutto incidente nelle prime ore della notte di giovedì 18 aprile a Latisana sulla strada regionale 354 che porta a Lignano in località Picchi. Una macchina si è ribaltata ed è finita in un fosso con il conducente, un ragazzo classe 1992 nato a Treviglio e residente a Latisana che è rimasto bloccato nel veicolo e anche parzialmente immerso nell'acqua che in quelle ore ha una temperatura piuttosto bassa. Visto il recente maltempo, la chiamata al numero unico di emergenza è arrivata intorno alle 6 a qualche ora dall'accaduto quando alcuni passanti hanno segnalato l'incidente e l'auto ribaltata all'altezza dell'azienda agricola dal bianco tra la rotonda e l'incrocio che porta ad Aprilia Marittima. Dalle prime ricostruzioni il conducente del veicolo è uscito autonomamente di strada, presumibilmente per un colpo di sonno visto che stava rientrando dal turno di lavoro e ha urtato un ostacolo, probabilmente un muretto del recinto dell'azienda agricola stessa. Sono intervenuti gli operatori sanitari, forze dell'ordine, due squadre dei vigili del fuoco i quali hanno aiutato la persona bloccata a uscire dal veicolo per poterlo lasciare alle cure degli infermieri. Il giovane è stato elitrasportato all'ospedale di Udine in codice rosso, viste le condizioni serie in cui versava. Nello scontro lo stesso aveva riportato infatti diversi traumi, oltre ad avere la temperatura corporea molto bassa per via del tempo trascorso con parte del corpo immerso nell'acqua fredda. Per via della concomitanza dell'abbassamento della temperatura corporea e del politrauma è stata necessaria l'intubazione del 32enne che resta tuttora in pericolo di vita. Poteva anche trasformarsi in tragedia l'errore di un anziano di 88 anni che ha imboccato contromano l'autostrada A23 percorrendone un lungo tratto, circa 8 chilometri, prima di essere fermato dalla polizia stradale. Tragedia evitata sulla A23 Alpe Adria, dove il 12 aprile alle 13.30 un anziano di 88 anni ha imboccato l'autostrada contromano percorrendo 8 chilometri e ben due gallerie sulla corsia di sorpasso, prima di essere fermato dalla polizia stradale. L'allarme è scattato grazie alle segnalazioni telefoniche e al monitoraggio della rete autostradale con le telecamere di sicurezza. Subito sono stati informati i viaggiatori attraverso i pannelli luminosi, invitati a rallentare e abbandonare la carreggiata, fermandosi nelle aree di sosta o di servizio. L'uomo di nazionalità italiana era alla guida di una Opel Meriva quando probabilmente per errore ha imboccato l'autostrada alla barriera di Ugovizza ed ha invertito la marcia e mettendosi sulla strada in direzione di Udine, percorrendola però nel senso opposto. Bloccato subito il traffico al confine di Stato, gli agenti della polizia stradale di Amaro hanno raggiunto e fermato il veicolo contromano in pochi minuti. L'anziano era in evidente stato confusionale. Per fortuna nessuna auto incrociata durante il folle tragitto è stata coinvolta. Non si è registrato alcun danno. All'uomo è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto, oltre alla sanzione amministrativa che arriva in questi casi, fino ad 8.186 euro. La polizia stradale informa che in casi di segnalazione di veicolo contromano gli utenti della strada devono prendere in considerazione il messaggio dei pannelli luminosi, rallentare e, se possibile, abbandonare la carreggiata, fermandosi nelle aree di servizio o di parcheggio e, se ciò non è possibile, rallentare e mantenere la destra rigorosamente, considerando che chi imbocca contromano la strada tende a mantenere la sua di destra, che corrisponde alla corsia di sorpasso di chi è correttamente instradato. Circa due settimane fa, l'imprenditore udinese, Angelo Casa, aveva sorpreso un 39enne algerino a girarsi per le scale della sua abitazione per il malvivente. È arrivata la sentenza a un anno di reclusione. E quando sono rientrato, tre minuti dopo, ho trovato questo individuo giù per le scale che non ha saputo giustificarmi la sua presenza all'interno, perché poteva anche essere che cercasse qualcuno, ma in realtà purtroppo abbiamo capito subito che non cercava nessuno e ho visto poi dalle telecamere che si aggirava per il primo piano e che i carabinieri poi l'hanno arrestato. Me lo sono ritrovato davanti, dentro casa, cioè dentro al pianerottolo, che aveva appunto fatto il giro su. Non è riuscito ad entrare al secondo piano, dove c'erano mia moglie e mio figlio, perché la porta era chiusa ed è rimasto in carcere, mi dicevano i carabinieri, perché aveva dei precedenti, non aveva documenti con sé ed è stato appunto confermato il tentato furto e la violazione di domicilio. Era il 5 aprile scorso quando in via Vittorio Veneto a Udine l'imprenditore Angelo Casa era uscito per gettare i cartoni e nel frattempo un cittadino algerino di 39 anni senza fissa dimora, Kaireddin Souci, si era intrufolato nello stabile con potenziali intenti criminosi, confermato anche dal Tribunale di Udine, che con rito abbreviato lo ha condannato a un anno di reclusione per tentato furto in abitazione. Le telecamere a circuito chiuso di video sorveglianza interne hanno evidenziato come Souci avesse tentato prima di entrare al secondo piano, dove c'erano moglie e figlio di Angelo Casa, e poi accortosi che stava per essere sorpreso in flagranza di reato, aveva tentato di nascondersi al primo piano, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Angelo Casa lo ha bloccato impedendogli di scappare e dopo l'arrivo tempestivo dei carabinieri, il 39enne algerino era stato posto sotto arresto, convalidato per direttissima dal giudice Emanuele Lazzaro. La versione di Souci non aveva convinto sul momento, visto che dalla sua versione pareva che stesse cercando un posto dove dormire la notte. Giustificazione che non ha tenuto nemmeno nel rito abbreviato ed è così arrivata per Kaireddin Souci, che già aveva qualche precedente, la sentenza di condanna a un anno di reclusione. Furto da 3.000 euro ieri in un'abitazione alla Tisana, i danni di una pensionata. Intorno alle 16.30 ha visto arrivare una donna che si è presentata davanti a casa come infermiera. Quest'ultima è riuscita ad avere la fiducia dell'anziana e ad accedere alla sua casa, dove poi in un momento di distrazione della pensionata la finta infermiera è riuscita a prelevare dalla camera da letto circa 3.000 euro in contanti. Altro furto, questa volta all'interno di un'azienda ad Artegna. Colpo nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 aprile all'interno di un'azienda di Artegna. È stato il titolare ad accorgersi dell'intrusione sgradita dei ladri al mattino. Ha subito asporto denunce ai carabinieri della stazione di Buia. I malviventi sono entrati all'interno dello stabile forzando una finestra. Una volta dentro hanno messo a soccuado l'ufficio. Il bottino supera tra denaro contante e molini in oro i 4.000 euro oltre al danno provocato. Sotto la lente investigativa le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza. Indagini in corso. La Polizia di Stato di Udine ha rintracciato in Croazia e Francia due latitanti per reati vari commessi rispettivamente nel 2011 e nel 2019. Sono stati rintracciati due latitanti all'estero da parte della Polizia di Stato di Udine coadiuvata dal Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia e dal coordinamento della Procura di Udine. Il primo arresto ha riguardato un cittadino cosovaro di 40 anni che deve scontare la pena di due anni e due mesi per il furto di una cassaforte dalla sede di un'attività imprenditoriale a Pavia di Udine nel settembre 2011. I gnoti ancora i complici ma ha rintracciato l'uomo che si era impadronito della cassaforte da cui aveva prelevato 800 euro. Successivamente per darsi alla fuga aveva anche rubato due mezzi della ditta. Incastrato dalle impronte digitali trovate sulla scena l'uomo è stato rintracciato dopo che aveva lasciato l'Italia senza farci verosimilmente ritorno. Il cosovare risultato essere attivo nella zona balcanica ed è stato arrestato in Croazia lo scorso 9 aprile. Sono in corso per lui le procedure estradizionali così come per il secondo arrestato un 24enne cittadino marocchino residente con la famiglia di origine in un comune della bassa friulana. Deve scontare la pena di 5 anni e 4 mesi di reclusioni inflittagli dal tribunale di Udine. Il giovane è stato rintracciato in Francia dalla polizia francese nella città di Clermont-Ferrand. Messo in manette lo scorso 16 aprile tramite arresto europeo era stato responsabile il 14 ottobre 2019 di una rapina ai danni di un cittadino italiano che aveva minacciato stringendo una mano intorno al collo. Dopo aver rubato il telefono cellulare al malcapitato aveva sferrato un pugno al viso allo stesso e si era fatto consegnare anche il denaro che aveva con prognosi di sette giorni. Il marocchino era scappato rendendosi irriperibile ma ora è stato rintracciato e potrà così iniziare a scontare la sua pena. Il mia giornata. Ed ora veniamo a quelli che sono i temi della città in particolare lo spostamento del mercato in Piazza Duomo dal 2 aprile scorso che aveva scatenato le lamentele degli ambulanti spesso anche ai nostri microfoni per i posti ridotti a disposizione degli spuntisti. Bene, il Comune è intervenuto, ha colto le richieste mettendo a disposizione tre stalli in più. Vediamo il servizio e poi saremo live lì dal mercato di Piazza Duomo. Causa diminuzione dei posti disponibili sarò presente solo nelle giornate di martedì e venerdì quindi lei fa meno giornate? Quando prima venivo anche il giovedì e il sabato che detto fra noi commercialmente sono le due migliori giornate della settimana come lavoro, come in caso. Perché qui non c'è abbastanza capienza? Perché qui sono stati fatti solo 15 stalli contro i 22 che c'erano nell'altra piazza. Dopo varie proteste raccolte dai microfoni di TV12 gli ambulanti hanno ottenuto una prima vittoria. Con lo spostamento del mercato dalla consueta sede di Piazza 20 Settembre alla nuova destinazione di fronte alla cattedrale della città sono emerse criticità di cui l'amministrazione ha preso atto e ha deciso di ampliare gli spazi disponibili. Sono tre gli ulteriori stalli per gli spuntisti nelle giornate di giovedì e sabato e questo garantirà una maggiore possibilità di partecipazione. I posteggi ulteriori sono stati ricavati nella zona nord della piazza misurano 3 metri per 3 e non consentono di poter utilizzare un eventuale parcheggio. Questa era la seconda richiesta degli ambulanti la possibilità di avere appunto un parcheggio. Noi dobbiamo prendere, scaricare la merce e poi spostare i nostri furgoni nella zona oltre la ZTL che non è vicinissimo, volevo dire. Per il momento hanno avuto le garanzie di essere ascoltati ricordando che la sistemazione in Piazza Duomo è temporanea e che a fine estate torneranno in Piazza 20 Settembre. Andiamo dal nostro Omar Costantini per vedere se ci sono tre spuntisti in più oggi al mercato in Piazza Duomo. Omar? Sì, prendiamo la linea da Piazza Duomo siamo proprio nel punto in cui saranno messi gli stalli per le tre postazioni in più come hai già detto tu in studio e chiaramente chi è contento è il nostro amico che arriva da Bibione perché grazie anche come hai sottolineato nel servizio grazie a TV12 insomma qualcosa si è ottenuto quando il quarto potere vuole le porte del palazzo si apre così innanzitutto finalmente una posizione giusta. Finalmente è giovedì, sono qui a lavorare perché gli ultimi due giovedì non c'erano ci sarò anche sabato, anche venerdì e sono molto contento e colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione che si è dimostrata molto sensibile alla problematica che avevo sollevato alla fine si tratta di lavoro e io volevo lavorare anche se il banco è piccolo come avevo chiesto anche con tre metri mi aranzo e sono contento. Chiaramente lei ha sottolineato una cosa importante vuole lavorare perché come tutti i suoi colleghi come si dice posa l'obulo per ottenere paga il suolo pubblico. Certo paga il suolo pubblico ma come tutti, tutti paghiamo il suolo pubblico l'importante è pagarlo e poter lavorare perché non pagarlo e non lavorare non è il massimo. A distanza di quasi due settimane dall'entrata in funzione della ZTL e dello spostamento del mercato qui in Piazza Duomo vedo un po' di movimento? Ma allora io ripeto ve l'ho già detto l'altra volta come mercato io parlo di commercio adesso non so poi le problematiche dei negozi sicuramente dall'altra parte ci sarà qualcuno che sta soffrendo e dispiace per loro però come numero di persone non ne vedo di meno sono sincero i clienti vecchi dell'altra parte un po' alla volta stanno arrivando e si prendono dei clienti nuovi che di là non li ho mai visti tantissime facce mai viste qui le vedo quindi diciamo non è male come posizione con questo non voglio dire che spingo per rimanere qui voglio solamente dire la verità come posizione non è male il disagio purtroppo ce l'hanno i commercianti in Piazza 20 Settembre insomma comunque quello che ha sottolineato lei è che la sensibilità da parte dell'amministrazione comunale ha fatto sì insomma di poter dare quello spazio che vi meritava perché credo che non fossero obbligati a darlo però se ci rimane nei limiti della legalità come siamo rimasti nei limiti della legalità mi sembrava giusto che li dessero e hanno aggiunto questi tre stalli qui quindi per esempio oggi manca il ragazzo dei fiori che non avrebbe trovato posto insieme a me sarebbe stato qui a fianco a me e magari anche qualcun altro diciamo che io sono molto 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 contento di questa novità insomma la ZTL e la ZTM zona traffico mercato ecco chiamiamo la zona traffico mercato la piazza è abbastanza poi c'è gite scolastiche c'è passaggio comunque sono 200 metri ma è un'altra zona di Udine chiaro di là eravamo abituati che i nostri clienti stavamo molto bene però siamo qui adattiamoci qui finché non torneremo di là ecco l'unica cosa che vi ripeto mi dispiace per i commercianti di là perché quelli sono in sofferenza perché più presto finiscono i lavori meglio è per loro chiaro allora come hai potuto sentire Giorgia questa intanto è la prima opinione noi continueremo comunque a girare la piazza e come sempre io lo sottolineo per l'ennesima volta quelli di fuori parlano mentre gli autotoni fanno difficoltà diciamo così a esprimere la propria opinione attraverso magari la televisione sui social è facile fare confusione è facile riportare un virgolettato però bisogna mostrare la faccia come ha fatto qui l'amico di Bibione per ottenere poi quello che si vuole perché protestare tanto al chilo come si dice non serve assolutamente a nulla per il momento è tutto a voi da Lidio grazie Omar aggiungo che insomma protestare in maniera civile e sensata e mettendoci la faccia può portare anche dei risultati come è successo in questo caso al signore di Bibione che ovviamente salutiamo andiamo avanti torneremo tra poco da te Omar riaprono i ristoranti e i locali del fallimento dal lava l'imprenditore Alessandro Vescovini rileva il ramo d'azienda ed è pronto a far ripartire l'attività già nel prossimo weekend riprenderà già sabato prossimo l'attività dei locali finiti nel fallimento delle prosciutterie SRL di Carlo Dallava dopo il dietro fronte della immensa di Stefano Cautero che si era visto a giudicare il ramo d'azienda con l'offerta giudicata migliore l'asset è passato all'imprenditore Alessandro Vescovini che era l'unico altro soggetto ad aver manifestato l'interesse attraverso la società responsabilità limitata compagnia del prosciutto costituita appositamente verrà dunque garantita la continuità aziendale gli esercizi che riapriranno i battenti sono il Caffè DM il piccolo bar di Via Rialto a Udine la prosciutteria IE e al Johnny Luen di San Daniele del Friuli la prosciutteria e la caffetteria Baccheri al Palmanova Outlet Village di Aiello l'ELP26 e Villa Sandy a Cortina i dipendenti che si erano licenziati subito dopo l'assegnazione a Immensa sono pronti a rientrare la vicenda potrebbe avere una coda penale l'avvocato Maurizio Miculan ha presentato infatti per conto di Vescovini un esposto denuncia sulle modalità di gestione della gara in attesa dei prossimi passaggi giudiziari intanto ripartirà l'attività nel prossimo weekend i carabinieri di Osopo hanno arrestato due giovani per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti partendo dal ritrovamento di uno zainetto pieno di marijuana in un parcheggio arrestati due giovani per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti lunedì 15 aprile in quel di Bordano sono intervenuti i carabinieri della stazione di Osopo che hanno trovato nel parcheggio di Via Leudino uno zainetto contenente marijuana in discreto quantitativo trovato nelle vicinanze anche un giovane privo di documenti una volta invitato questo a recuperarli lo stesso è stato accompagnato dove dichiarava di essere domiciliato ma lì si è rifiutato di entrare i carabinieri si sono subito insospettiti più di quanto già non lo fossero visto il forte odore di marijuana che veniva dall'abitazione i militari hanno quindi deciso di introdursi nell'appartamento dove hanno trovato un altro giovane che sul tavolo aveva tre etti di hashish 70 grammi di marijuana tre bilancini e 1100 euro in contanti entrambi i ragazzi sono nati nel 2004 e residenti a Gemona del Friuli e hanno ricevuto lo stesso trattamento ovvero quello degli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida del GIP di Udine tutto il materiale rinvenuto sia nel parcheggio che nell'abitazione è stato posto sotto sequestro i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti a Sarone di Caneva oggi per il salvataggio di un gattino bloccato sul tetto di un'abitazione raggiunto il cucciolo con l'autoscala i vigili del fuoco hanno recuperato il piccolo felino che una volta portato a terra è stato consegnato ad un residente della zona che lo ha adottato l'azienda sanitaria Friuli Centrale ha presentato il progetto di realizzazione del centro residenziale per la cura dei disturbi del comportamento alimentare che risponde ad un'esigenza primaria per il trattamento corretto di queste patologie che sono sempre più diffuse Nascerà entro il 2024 a Camino al Tagliamento il primo centro residenziale regionale per la cura dei disturbi del comportamento alimentare di cui soffrono sempre più persone in particolare donne l'esigenza di una struttura con queste caratteristiche che fa capo ai servizi dell'azienda sanitaria Friuli Centrale in attesa della nascita di analoghi centri per le altre aziende sanitarie è stata ben spiegata nella conferenza stampa di presentazione del progetto a cui ha preso parte l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi è un obiettivo che ci siamo dati e l'abbiamo raggiunto ed è un servizio che o si dava impropriamente all'interno di una struttura ospedaliera oppure si prendeva dall'esterno questa dovrebbe essere la cultura con la quale noi riorganizziamo i nostri sistemi che hanno meno bisogno di una cultura e di un baricentro ospedaliero rispetto all'integrazione sociosanitaria Quanto è l'impegno di spesa? L'investimento è intorno al milione e mezzo ed è una posta già approvata dal Consiglio regionale in un enorme bilancio I disturbi del comportamento alimentare nella nostra regione hanno un impatto importante sulla popolazione come ci spiega il neuropsichiatra infantile Ezio Bertossi I disturbi del comportamento alimentare negli ultimi dieci anni hanno avuto un'impennata notevole nei numeri questo è un riscontro in tutti i paesi in Italia in particolare e la nostra regione non fa sconti su questo In età evolutiva i due centri attualmente dell'azienda Friuli Centrale contano circa nel 2023 220-230 ragazzi prese in carico e questa sera su TV12 torna l'appuntamento con Ring debutta in realtà il giovedì dopo la serata di ieri sera con il sindaco De Toni c'è un sondaggio che lanciamo già da ora quindi potete cominciare a dire la vostra si parla del tetto agli alunni stranieri nelle classi della scuola quindi il tetto del 20% di cui si parla in queste settimane se siete d'accordo potete fare una chiamata totalmente gratuita e anonima al numero che vedete sottolineato in verde 0422 1626 691 se non siete d'accordo al tetto quindi al numero imposto massimo di alunni stranieri nelle classi italiane potete fare una chiamata sempre gratuita anonima allo 0422 1626 690 avete tutto il giorno per dire la vostra poi questa sera nel corso di ring a partire dalle 21 le risposte a questo sondaggio allora vediamo se possiamo tornare al mercato da Omar Costanzini se ci sente al mercato di Udine Omar ci sei che cosa stai comprando? Allora stavamo guardando cara Giorgia i granchi blu perché la curiosità del giornalista è quella di sentire un po' quello che accade però chiaramente usciamo un attimo dal concetto del mercato perché come vedi c'è la presenza del granchio blu all'interno della parte dedicata al pesce dintorni adesso volevamo sentire il responsabile dello stand ma un attimo impegnato che sta servendo i clienti e giustamente il cliente ha sempre ragione e l'anima del commercio poi rientra in tutto però come potete vedere insomma c'è tanta curiosità da parte mi diceva proprio responsabile di questo bancone mi diceva che c'è tanta curiosità da parte degli acquirenti udinesi e non per capire un po' come funziona il discorso del granchio blu non c'è richiesta almeno così mi parlava c'è poca magari richiesta ma più che altro curiosità per capire un attimo come funziona questo granchio che da qualche anno insomma sta infestando anche il mare adriatico in particolare ed è un predatore vorace nel senso che non sia contenta di mangiare solo cose particolari ma mangia tutto quello che trova e sta come si dice cancellando di fatto anche quella che è la fauna locale all'interno del mare per quanto riguarda l'alto adriatico signora è contenta del granchio blu scusi oh che belli no non so non lo conosco potrebbe magari prendere uno per provarlo eh sì ma non so come si cucina vabbè vabbè si vede un po' di acqua bollente so butta dentro una sbollentata e via sì belli però occhio con le mani perché rischia che no ma so so prendere perché ogni tanto vado a pescare dunque sa prendere in mano il granchio blu sì mezzo morto consiglierebbe ai nostri telespettatori l'acquisto di un granchio blu sono pure simpatici sì consiglierei perché sono buone sì io non blu ho mangiato quelle rosse certo ho pescato mar nero ah ok il mar nero si trova anche nel mar nero il granchio blu no blu no solo quelli normali quello nero si trova quello nero sì si trova nel mar nero si trova nel mar nero però qua sì va bene mar andreatico sì comunque un consiglio c'è da parteciuta sì sì consiglio sì che sono buoni veramente bene se la signora che arriva da arriva da Ucraina ecco qui in Italia da tanto tempo sì sì da tanto tempo lei consiglia comunque ai nostri telespettatori il granchio blu ecco perché è una roba buona si può fare da mangiare ecco sì e vedo che adesso si veramente anche freschi no eh belli sono tutti vivi stamattina stamattina forse è stata pescata no ecco provo adesso anche io a prendere due cucino per ora grazie signora poi si chiamerà che ne prendiamo assaggiare a casa sua allora per il momento finiamo qui il flash da piazza a mercato anzi piazza Duomo oggi è diventata piazza a mercato e ti ripasso la linea a Giorgia e poi ci sentiremo insomma nel corso di Friuli in diretta grazie Omar andiamo ora invece da in un'altra parte della città andiamo in via Valsaisera dove una palazzina lo sapete lunedì è stata colpita da un incendio importante dove ci sono delle persone che ancora non hanno le loro case dove oggi però sono cominciati i lavori di bonifica Francesco Pezzella si si Giorgia buongiorno come hai ben detto sono iniziati i lavori di bonifica puntuali come ci aveva annunciato ieri il direttore dell'Ater Puzzi intervistato proprio qui una ditta che è incaricata dall'Ater di effettuare questi lavori è iniziato questa mattina con il primo intervento potete sentire in maniera ben forte e distinta il rumore di alcuni compressori che sono al lavoro per effettuare le operazioni di risciacquo intanto abbiamo visto utilizzare delle bocchette dalle quali fuoriesce dell'acqua ovviamente un getto d'acqua e di vapore che permette di iniziare a ripulire il primo intervento parte dagli appartamenti più in basso che sono quelli evidentemente più colpiti dal problema perché i primi ad essere investiti dall'ondata di fumo generato dall'incendio dallo scoppio nello scantinato ecco adesso c'è un attimo di pausa nei lavori e poi vi facciamo vedere anche alcuni effetti personali che sono stati recuperati dalle abitazioni man mano che è stato possibile per gli inquilini accedere se non ancora poterci tornare a vivere quantomeno accedere per recuperare gli effetti personali da portare con sé nella sistemazione temporanea che hanno trovato grazie al comune oppure grazie all'ospitalità di amici e parenti come abbiamo già detto ieri con il direttore Puzzi dell'Ater è impossibile fare una stima di quanto tempo ci vorrà soprattutto perché al di là dell'operazione di pulizia quindi togliere il nero che si è creato la fuligine che c'è all'interno degli appartamenti investiti dal fumo c'è anche una verifica sulla stabilità per esempio del solaio dello scantinato che poi corrisponde ovviamente con il pavimento dell'abitazione che si trova immediatamente sopra ricordiamo che una parte del soffitto della cantina è crollato è stato ristrutto dall'esplosione dunque questo potrebbe aver creato delle condizioni di instabilità e di insicurezza e dunque da verificare assolutamente prima di poter dare legibilità al rientro dell'appartamento e prima di poter verificare se gli interventi necessari si possono limitare soltanto alla pulizia che in questo momento vediamo in corso e quindi alla bonifica delle mura delle abitazioni che sono state investite dal fumo oppure se sarà necessario effettuare lavori un pochino più approfonditi per rimettere in sicurezza il tutto e permettere poi finalmente alle persone che occupano queste case di rientrarvi e di riprendere la loro vita normale per questo aggiornamento prima di andare in pubblicità facciamoci un salto a Times Square dove c'è il Friuli Venezia Giulia sui maxischermi siamo in Times Square e il Friuli Venezia Giulia ha deciso di promuoversi e promuovere la nostra regione nella principale piazza del globo la promozione turistica del Friuli Venezia Giulia proda negli Stati Uniti e conquista Times Square Promoturismo FWG su indicazione della regione ha realizzato la campagna che viene proiettata sui maxischermi con una superficie di decine di metri quadrati che caratterizzano l'iconica piazza di New York il governatore Massimiliano Fedriga durante la sua missione istituzionale negli Stati Uniti ha sottolineato che la regione prosegue in questa direzione per dare nuove opportunità alle imprese e ai cittadini la presenza in Times Square vuol dire essere la presenza non soltanto negli Stati Uniti non soltanto a New York ma essere presente in tutto il mondo basti pensare tutte le persone che passano di qua e con i loro video dagli smartphone inquadrano Times Square ben inquadreranno anche il Friuli Venezia Giulia con Io sono Friuli Venezia Giulia che vedete alle mie spalle una promozione della nostra magnifica regione che continua ad avere sempre maggiore riscontro dal punto di vista turistico e anche di attività degli investimenti Fedriga ha inoltre incontrato il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti che sarà impegnato al G7 in programma Washington e con il quale si è confrontato sulle opportunità di rafforzamento dei rapporti politici e commerciali con gli Stati Uniti come prospettato anche nell'ambito di Selecting Italy l'evento d'attrazione di investimenti esteri svolto sia a Trieste Ci fermiamo per un piccolo break torniamo tra pochissimo ancora con tanti argomenti tanti ospiti e tanti collegamenti Di nuovo insieme a Friuli in diretta bentornati vado a salutare subito Antonio Calligaris capogruppo della Lega in consiglio regionale e Furio Onsel di Open Sinistra FWG buongiorno benvenuto Buongiorno a lei e alle tre spettatrici e tre spettatori Allora parto dal tema che ispira il nostro sondaggio di oggi che come vi ho raccontato poco fa sarà anche uno dei temi della puntata di Ring di questa sera andiamo a rivederlo insieme un tetto agli alunni stranieri in classe si vota così con una chiamata gratuita e anonima il sì è allo 04221626691 il no è allo 04221626690 ok vogliamo dare i voti di Friuli in diretta un tetto agli stranieri nelle classi chi vuole partire? ma se vuole io posso dire con tutto il rispetto per chi è una domanda fallace è una domanda che in qualche modo inganna chi viene perché tutti siamo d'accordo che ci deve essere la massima integrazione però se vogliamo raggiungere l'integrazione non possiamo immaginare di farlo soltanto nelle classi che costringendo quindi a deportare come è avvenuto a Monfalcone e in altri contesti i bambini in scuole più lontane di quelle che è la loro residenza io sono stato sindaco raccomandavo sempre anche per ridurre il traffico per ridurre i problemi signori e signori iscrivete i vostri figli a scuola non alla scuola lontana le scuole in Friuli Venezia Giulia sono tutte buone quella più vicino a casa e dunque è giusto che tutti possano iscrivere i propri figli e anche diciamo i figli degli cittadini stranieri essere iscritti nelle scuole sotto casa se effettivamente però non c'è l'integrazione e noi abbiamo delle zone dove c'è un addensamento di concentrazione forse il problema sta lì non possiamo scaricarlo diciamo sui bambini perché i bambini verrebbero trasportati e sradicati ulteriormente anche da quello che è il loro contesto diciamo abitativo e mandati lontano e quindi con tutti i problemi che ci sono quindi io sono assolutamente contrario a che ci sia un tetto se appunto si affronta solo questo tema Caligaris assolutamente favorevole è una misura di buon senso dovrebbe essere già fatto perché fra l'altro il tetto è fissato da una circolare mi pare del ministro Gelmini ancora che fissava il 30% la presenza ma la prima che tentò fu la Moratti adesso non so più anche Moratti se non so più il partito Medici per gli studenti non in talofoni ora innanzitutto poi a Monfalconi non c'è stata nessuna deportazione di bambini perché poi in realtà non c'è stato l'accordo di trasportarli eccetera il problema è nella realtà nella realtà si crea integrazione con delle classi come per esempio è accaduto due o tre anni fa a Monfalcone dove c'era uno un studente italiano e tutti gli altri erano stranieri quella integrazione non credo cioè bisogna guardare se si vuole l'integrazione l'integrazione necessaria bisogna guardare in faccia alla realtà allora la presenza di studenti stranieri iscritti iscritti a scuola alla classe in base semplicemente all'età anagrafica e non alla competenza capacità linguistica italiana ovviamente reale crea un problema di integrazione perché se metti un bambino in quinta elementare che non sa una parola di italiano non fa bene a lui e non fa bene neanche a tutti gli altri è un problema da affrontare ripulendosi da questa cosa siamo razzisti siete razzisti non li vogliamo anche eccetera ma guardando in faccia la realtà cioè bisogna affrontare il problema affrontarlo con un approccio reale che faccia bene al ragazzo straniero e anche agli altri ragazzi perché poi cosa succede? bisogna prendersela con i più deboli per l'integrazione cioè scarichiamo tutto su di loro il problema è solo loro ma il problema è dove noi alloggiamo diciamo che ci siano delle situazioni di integrazione anche alloggiativa contrastiamo alla formazione di determinati ghetti qui io mi trovo spesso segnalazioni di persone che hanno difficoltà solo per il colore della loro pelle anche se hanno perfettamente un posto di lavoro in aziende a poter affittare in certe zone della città se poi alla fine non c'è una cultura che mira l'integrazione non possiamo dire l'unico posto dove c'è l'integrazione deve essere proprio nella prima elementare dove ci sono i bambini più deboli così li trasportiamo lontani dal luogo dove poi vivono non mi sembra corretto è un modo di affrontare il problema è sbagliato però nella realtà una classe di prima di seconda elementare dove ci sono su 20 bambini 15 stranieri succedeva anche quando ero sindaco io parlo della prima la prima forse addirittura è un caso più semplice perché tutti imparano lì ma parliamo della terza della quarta della prima media cosa succede lì quando hai 15 stranieri e 5 italiani i veri problemi linguistici ci sono in prima come intervieni sull'educazione e sulla formazione di questi ragazzi degli italiani e degli stranieri sulla necessità di avere mediatori culturali nelle classi dove ci sono dei problemi linguistici questo è evidente però non tema guardi che nelle quinte non c'è questo squilibrio ormai i nostri seconda generazione iniziano dalla prima e quindi mandarli via soltanto perché sono i più piccoli mi sembra veramente una crudeltà che poi uno possa fare degli incentivi ma bisogna partire dagli alloggi il percorso di studi il problema è inserire un ragazzo in terza ma non arrivano dalla terza arrivano dalla prima ma a seconda delle aree perché ad esempio nell'area Giuliano Mofalconese avviene anche questo forse arriverà qualcuno a una certa età questo è il problema per esempio famoso dei ricongiungimenti che citavi anche tu di Mofalconese in altri paesi fanno delle le chiamano classi speciali cioè nel momento quando uno arriva e non sa niente di italiano viene inserito in delle dove fanno dei corsi intensivi e accelerati anche come dopo scuola per l'amor di Dio negli Stati Uniti sono le stesse comunità di stranieri che facevano i corsi anche a Udine di inglese proprio andavano a scuola la scuola di tutti e poi facevano la scuola proprio ti insegnavano come servizi sociali abbiamo sempre secondo la casetta deve recuperare un gap purtroppo però il suo gap non può pesare sugli altri ragazzi italiani ma partiamo allora dai servizi partiamo dai dopo scuola partiamo dalla possibilità di avere alloggi in qualche misura diciamo integrati e non alla ghettizzazione delle persone e dopo ci porremo il problema delle percentuali che per anni soprattutto voi di sinistra in molti comuni facevate per gli stranieri invece di fare gli corsi di italiano quello intensivo voi gli facevate il corso di egiziano o di bangalese per farli sentire a casa loro quello è l'approccio sbagliato no 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 adesso i corsi di italiano e lingua seconda anche all'università di Udine abbiamo avuto corsi di formazione proprio per insegnanti che poi sia importante agli alle due no era sì certo lingua di lingua seconda sì sì li abbiamo sempre fatti quindi è importante però anche che le persone mantengano il loro plurilinguismo quindi ci sarà stato anche qualche corso ma non è che noi come comune abbiamo diciamo promosso i corsi di arabo c'erano comuni che lo facevano di centro-sinistra le assicuro che sì non abbiamo promosso questo genere di corsi anche se tra l'altro è stata varata anche una legge proprio peraltro anche con il sostegno della Lega per dare dei contributi alle comunità storiche di immigrati e quindi con i soldi appunto della regione e non certo proposto da noi verranno fatti questi corsi io ho votato a favore di quella legge è partita da voi quindi quindi lei dice il 20% è uno strumento per in questo momento il 30% è uno strumento per in qualche modo risolvere la situazione attuale dare una risposta lei dice invece bisogna studiare dei metodi alternativi non ce la si può prendere con i più deboli ok va bene ma a che punto siamo veramente con l'integrazione perché ne parlavamo anche una settimana fa qui con dei vostri colleghi alla fine del Ramadan per esempio con le varie polemiche che sono successe a Montfalcone cioè stiamo arrivando a un'idea di integrazione o siamo ancora molto lontani? ma guardi innanzitutto io sono per una società laica in tutti i sensi e dunque io penso che giustamente uno debba concedere e garantire la possibilità a tutte le comunità di mantenere i loro credi le loro religioni diversamente da quello che è stato fatto a Montfalcone ma come principio generale proprio di permettere a ciascuno di realizzare se stesso articolo 3 della Costituzione italiana poi il tema di come promuovere l'integrazione le dico è un percorso lungo proprio perché alla fine se noi andiamo a vedere sul mercato degli alloggi se una persona un lavoratore guardi che tantissimi dei nostri lavoratori soprattutto lavoratori manuali sono diciamo immigrati se non abbiamo un contesto che favorisce anche il poter affittare un alloggio finisce che poi ci sono i soliti ghetti ma come accade anche un po' con gli studenti non creda che poi sia diverso ci sono situazioni dove appunto di nuovo si aggregano tutti gli studenti bisogna cercare su questo di contrastare questo tipo di visione e di promuovere appunto in tutti i modi possibili la cultura il percorso è difficile certamente abbiamo visto che altrove hanno fallito in Francia e in altri paesi hanno fallito poi guardiamo altri paesi invece lo so tipicamente l'America Latina dove invece sono riusciti ad ottenere una perfetta integrazione quindi sono percorsi che richiedono grande esperienza richiedono che nelle scuole soprattutto si possa affrontare questo tema e ci si impegni perché poi sono le seconde generazioni quelle importanti la prima generazione è disperatamente alla ricerca della sopravvivenza e la seconda generazione è quella sulla quale avviene il percorso di integrazione ed è proprio lì che è importante nelle scuole non abbandonarle Caligaris poi cambiamo argomento allora innanzitutto sulla questione del pregare e non pregare allora su questo c'è stata anche una sentenza importante proprio sul caso Muffacone del Consiglio di Stato allora distinguiamo allora l'articolo della Costituzione no? di fatto il Consiglio di Stato dice nessuno contesta il diritto di pregare è chiaro che quando dalla perché uno può pregare anche a casa sua la questione è che quando la preghiera si trasforma in un culto pubblico deve essere cioè lo fai in una moschea una chiesa un tempio o vuoi questa struttura questo deve essere un deve essere regolato viene regolato dalla legge quindi ci deve essere la conformità urbanistica gli spazi la sicurezza i parcheggi e tutte queste cose quindi non puoi pensare solo perché tu sei musulmano no? di avere e derogare a questo certo devi rispettare queste queste regole che valgono per tutte le confessioni è vero ecco no perché questo non è molto chiaro in determinate comunità musulmane quello che bisogna fare è che l'amministrazione comunale deve garantire che sia possibile un attimo poi c'è un altro aspetto c'è un altro aspetto tutte le confessioni religiose rispettano queste regole e perché hanno fatto un hanno i concordati con lo Stato italiano l'Islam non ce l'ha è l'unico che non ce l'ha perché perché per loro struttura non hanno una struttura gerarchica eccetera questo sarà anche un problema che devono un po' risolvere un po' loro perché se tu vieni nel nostro paese è chiaro che la tua confessione con buon senso con logica eccetera lo Stato ti permette di professarla accettando le regole dello Stato e il buon senso dello Stato il senso è che l'integrazione però e credo che in Italia nessuno sia contrario all'integrazione l'integrazione va fatta però in un modo vuol dire che chi viene qui non pretende che è arrivato lui e si fa come lui come vuole lui o dove viene lui e come nel suo paese perché non funziona così perché questo comunque è e resterà il nostro paese questo è si deve partire da queste basi allora c'è un'integrazione sì questo uso del possessivo diciamo il paese è poi dei cittadini e quindi non è che è solo di una parte dei cittadini tutti coloro che appunto essendo cittadini rispettano le leggi io sono d'accordo con lei non si può diciamo creare una zona di culto lì dove non ci sono le condizioni urbanistiche per poterlo fare ma un'amministrazione comunale deve porsi nelle condizioni di garantire che ciò possa avvenire non sarà qui ma sarà lì ma va bene uguale un approccio sbagliato qualche altro paese lo ha anche fatto ci sono delle aree per esempio nel Regno Unito dove delle aree libere dove addirittura è ammessa la sharia cosa assolutamente impensabile impossibile per un paese civile e credo che non vogliamo arrivare a questo no no ma certamente la rigidità francese e tutti quei lavori là che qui non ci possono stare bene possiamo analizzare i vari paesi europei è giusto per rispettare la legalità ma si trovano delle soluzioni bisogna trovare soluzioni non si può dire a certi cittadini no mi dispiace voi non potete professare la vostra religione anche se appunto io sono laico e come tale ritengo che non ce ne sia una più importante delle altre o via dicendo su tutte bisogna darci la giusta dimensione certe forme anche di fanatismo laico come in Francia hanno portato diciamo a forme poi anche di chiusura in Gran Bretagna certamente c'è una maggiore tolleranza e quindi anche il laicismo inglese è molto più tollerante vabbè poi questo invece è un paese cattolico anche quello ha la sua importanza quindi no ma quello che voglio dire è che per non disturbare chi arriva qui non si può concepire che noi dobbiamo togliere i crocifissi è questo dicevo c'è anche questo tema perché siamo sempre là in Arabia Saudita togli tu il crocifisso dalla catenina al collo su questo guardi sulla Arabia Saudita non mi sembra un esempio di democrazia da cui prendere certamente io non metterei i crocifissi ecco esatto lei non metterebbe i crocifissi io non li toglierei perché abbiamo gli migliorati cioè se ci sono non andrei a toglierli nemmeno io però ecco eviterei di metterceli se il luogo non è religioso va bene allora perché non ha votato solo lei ieri il disegno di legge ma innanzitutto perché si è opposto al disegno di legge 18 che è successo ma guardi allora il disegno di legge 18 ha tutta una serie di norme addirittura direi banali sono di mero aggiustamento con norme europee non ce n'era quasi bisogno tant'è che su alcune cose si è proceduto perché la direttiva europea supera la normativa regionale quindi già ci si ci si adoperava secondo la normativa europea e non secondo la precedente regionale quindi su quelle cosa vuole entrare tra l'altro va anche ribadito che questa legislatura veramente è un po' lavativa cioè di leggi non ne ha quasi fatte a parte la legge di la legge finanziaria ci ha fatto aspettare questa legge dopo tanto tempo e che cosa è venuto fuori ma sono venute fuori diciamo innanzitutto un po' di arroganza da per esempio le norme sulla protezione civile e su quello che è la sala operativa degli incendi boschivi che sono stati un'esperienza drammatica di due anni fa di quasi un anno e mezzo e tre quarti fa dove ci sono stati anche dei morti queste qui non sono nemmeno state commentate nessuno si è degnato di in commissione di analizzarle quindi già qui già confiolazione del regolamento quindi già questo basta per dire no io non accetto questo metodo e quindi voto contro poi ci sono stati tanti altri episodi dove si vengono fatti degli emendamenti degli approfondimenti di condivisione non so stanno partendo le case della comunità bisogna definire le linee guida su come verrà realizzata la coprogettazione e la sanità si dice all'assessore assessore però queste linee guida le discutiamo noi in commissione no no dice forse se dipende ma dico siamo una regione a statuto speciale possiamo decidere su cose così importanti come la sanità territoriale ecco guardi basterebbero queste due cose per una sul metodo e l'altra sulla sostanza per dire di no e te no perché su chiaro su 145 articoli le dico ce n'è una percentuale di articoli pressoché inutili bene vi ha dato in un solo intervento dei lavativi e degli arroganti quindi veda lei da dove vuole cominciare allora cominciamo così allora l'opposizione era arrabbiata perché sostanzialmente nel giorno della quarta commissione non c'era non è venuto l'assessore Riccardi no allora lì ovviamente tutta questa questa scena dopodiché l'assessore Riccardi era per esempio a un incontro per mi pare discutere delle dei posti e delle borse per le scuole di specializzazione si tra l'altro presentando è uno dei problemi è una delle cose che ha sempre segnalato il professor Omsel per rispetto la lascio finire ma poi intervengo è a fare qualcosa di utile e importante lo stesso è l'assessore Riccardi no va detto anzi era a fare qualcosa che il professor Omsel segnalava e contestava di questo quindi parliamo questa legge di L18 è una legge che si chiama anche semplifica di semplificazione tipo quella che dovrebbe essere fatta ogni anno ed è una legge di manutenzione e semplificazione a 100 appunto 45 47 articoli che per l'amor di Dio allora non è che non sono norme importanti perché nei casi sono norme di semplificazione di razionalizzazione che invece servono molto vi faccio l'esempio di una norma che può essere sembrare stupida ma che dice quando prendi il contributo per rimuovere l'amianto dal tetto dal tetto praticamente non è che ti diamo il contributo e ci metti il fotovoltaico non è la superficie non ti viene più calcolata solo su o dove hai il fotovoltaico o dove hai l'amianto la superficie ti viene calcolata su tutto il tetto sembra una cosa da regolamento ma non lo è non lo è per chi ha un capannone non lo è per chi ha un'attività imprenditoriale con l'amianto sul tetto che deve rimuovere e magari è stato bucato dalla grandine dell'altra estate e vuole ricostruirlo non è banale e non è inutile è una cosa che serve e fare questo riunire tutti questi piccoli interventi in una legge da 147 articoli con un'altra sessantina di ammendamenti della giunta credo sia un lavoro che va a risolvere i problemi concreti della gente da dove vuole partire da Riccardo? Sì allora prima di tutto sulla questione parliamo di una cosa di sostanza sulla questione del borse di studio fino a quando per le varie scuole di specialità si darà sempre la stessa somma è chiaro che alcune scuole di specialità andranno deserte e altre invece diciamo avranno l'affollamento quindi se scopriamo che determinate scuole di specialità non so medicina interna e medicina di emergenza no non ci vuole andare nessuno dovremmo diciamo in qualche modo avere l'autonomia di poter aumentare le borse se vogliamo risolvere il problema secondo punto i dati che ha presentato Riccardi che presi da da Agenas io ho fatto la conferenza stampa mettendoli in discussione io spero che lui abbia diciamo corretto gli errori che gli abbiamo messo che erano tra l'altro non errori secondari cioè il numero di letti di posti letto che ci sono all'ospedale di Cattinara quindi uno dei principali ospedali della regione e non combaciava quindi spero almeno che quello che gli ha mostrato ai rettori fosse diciamo corretto poi l'ultima considerazione se devo proprio dire un'altra un'altra norma a un certo punto c'è stata la norma di concedere anche ai comuni di area A no e quindi non montani comuni montani di area A la possibilità di avere certi incentivi industriali benissimo tutti d'accordo sai quali sono alcuni comuni di area A giusto per curiosità Trieste e Monfalcone e allora detto questo sono i B e C prima erano i B e C viene tolta l'area A no vengono tolti viene tolta il B e C e quindi si apre anche all'area alcuni area A vanno bene Artegna va benissimo ma ecco c'è anche Monfalcone e Trieste Mugia Mugia Foglianore di Puglia Rocchi Formons L'idea perché capisce che poi alla fine se proprio vogliamo entrare nei dettagli uno potrebbe anche dire Comune Montano sì è vero che c'è il Carso però almeno se l'insediamento si trova almeno a 100 metri dal livello del mare se no l'area montana diventa un po' speciosa questa è una norma importante ma certo che è importante per alcune zone ma è importante perché permette di fare una linea contributiva estendendo utilizzando uno strumento che hai già ma sì ma la facciamo per tutti i comuni non solo per quelli di area montana perché c'è un pezzetto di Carso come a Mufalcone ma peraltro il Bonfalcone non è che ce l'abbia come un Falcone dico solo che si poteva allora fare per tutti invece che farlo solo per quelli di area montana che si innestra questa misura è meglio non approfondire il 18 guardi qui perché se non vengono fuori queste cose qua che si affianca e si innestra proprio la partenza che sarà della ZTL zona logistica ZLS ZLS zona logistica semplificata sì ZTL ne abbiamo già come dire le cose insomma abbastanza trite e ritrite ma io prima di lasciarvi andare volevo leggervi questo comunicato del Movimento 5 Stelle che dice basta selfie a Times Square bisogna risolvere i problemi dell'economia della sanità e delle infrastrutture dei giovani quindi in qualche modo criticando questa queste immagini tra l'altro belle obiettivamente della nostra regione che compare in una delle piazze più importanti del mondo però dice Capozzella credo sia lui non occupiamoci di queste cose occupiamoci della sostanza chi mi vuole commentare questa cosa? ma visto che è un suo parto da lei sì beh allora chiunque chiunque probabilmente tranne Capozzella capisce no e i suoi capisce che forse un po' un po' di situazione economica e l'aiuti anche con qualche selfie a Times Square soprattutto se a Times Square fai scrivere io sono FWG e venite in Friuli Venezia Giulia no forse chiunque ci arriva a capire che questo è un aiuto ma guardi a me già non piace l'annacoluto io sono FWG quindi lei è uno step precedente già trovo che perché scegliersi diciamo una formula leggermente sgrammaticata no per poter diciamo per poter promuovere per lei che professore capisce no no ma ci sta ve ne dico anche Alessandro Manzoni c'ha gli anacoluti e lo fa ad arte quindi no no mi sta benissimo però già quello non lo trovo poi così esaltante poi devo dire che essendo il presidente Federica laureato in scienza della comunicazione e mi sembra che faccia diciamo quello che sa fare sa fare meglio cioè promuovere e non basta questo c'ha ragione Capozella adesso io non censurerei una promozione fatta in questo modo perché effettivamente poi bisogna vedere quanto è il costo quanto è il bilancio non lo so non deve essere esagerato però certamente bisogna anche affrontare altre tematiche non è non si può solo andare avanti con annunci con comunicati qui guardi che abbiamo avuto assestamenti di bilancio di oltre un miliardo somme gigantesche che forse non si ripeteranno più dove sono come si sono tradotte abbiamo una politica industriale no il paradosso dell'acciaieria no sulla quale si è discusso derivava proprio dal fatto che in teoria nessuno è contro un insediamento industriale ma ci mancherebbe altro ma non c'era un piano questa acciaieria è rimbalzata prima da da Muggia poi da Sandorligo della Valle poi è finita forse a Muffalcone perché tutto è un hub sì e poi è finita poi è finita alle spalle di Grado e Lignano per poi forse un giorno finire a Piombino cioè adesso vogliamo fare un ragionamento di politica industriale facciamola è chiaro che da noi sia il tema della lavorazione degli acciai della produzione della ghisa sono tutti temi importanti ed è chiaro che lo spostamento degli equilibri in Ucraina ha alterato facciamo questi ragionamenti davvero concreti li traduciamo oppure facciamo solo promozione di quelle che sono le bellezze naturali della nostra regione certamente il turismo è una nostra punto di forza turismo lento ecco perché non facciano piste in plastica a pian cavallo perché non c'è più neve o facciano impianti di risalita come vuole fare Mazzolini ecco perché dobbiamo anche capire no dobbiamo anche capire che il turismo si fa che il turismo le idee gli vengono per è l'associazione matematica secondo me ma guardi il turismo deve essere anche il turismo lento lei diceva non c'è confusione qui c'è confusione nel rendersi conto dei mutamenti climatici comunque va detto che oltre al selfie del presidente che io non ho criticato risponde anche a Capozella che quella è una allora come ha detto lui è una misura di promozione incredibile quella della io sono FWG va ricordato anche che il presidente è andato a fare una serie di accordi per esempio con il governatore della Virginia per accordi di tipo di ricerca per la promozione delle imprese del Friuli Venezia Giulia eccetera a New York ha incontrato anche mi pare visitato l'ex area cantieristica di Brooklyn che è stata rinaturalizzata e ristrutturata e per cui per avere esempio sul cui esempio sarà Portovecchio a Trieste per esempio cioè quindi queste sono è una politica di promozione è una politica diciamo così internazionale del Friuli Venezia Giulia che è importante e i risultati si vedono poi in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda per quanto riguarda le imprese che vengono in regione investire in regione adesso l'unica che è venuta è l'America come il British American Tobacco a fare sigarette cioè insomma è l'unica che è arrivata bisogna sì anche questo e soprattutto questo è un incentivo alle nostre alle forze della nostra regione va bene vi do l'ultimo minuto a testa poi dobbiamo prendere pubblicità voleva rispondere su qualcosa su questa cosa degli americani io dicevo che no giustamente bisogna promuovere giustamente bisogna in qualche misura stabilire contatti anzi semmai la nostra regione negli ultimi sei anni ha avuto un ruolo internazionale minimo cioè proprio non si è vista poi non credo che uno o due viaggi fatti nei Foculars Furlans degli Stati Uniti possano aiutare certamente è importante anche quello ma io non vedo questo grande sviluppo industriale non vedo questa grande evoluzione purtroppo vedo un numero di abitanti che diminuisce sempre di più una richiesta disperata di lavoratori in tutti i settori dal commercio al turismo all'industria tutti non trovano lavoro vedo purtroppo tantissimi giovani molto bravi della nostra regione essere attratti da altri bacini economici industriali primo Milano per dire una tutta l'area milanese lo so che è difficilissimo però io vedo tante persone andare in quella direzione se non addirittura fuori dall'Italia ci sono delle misure regionali di attrazione appunto l'assessore Rosola ne ha proposte però anche lì che questi abbiano prodotto dei risultati io penso ancora assolutamente ultima replica consigliere Onse allora vede questa situazione che lui ha descritto deriva dalle politiche da probabilmente di vent'anni fa o trent'anni fa no perché questi sono processi lenti che stiamo cercando di invertire no il fatto che non si trovano lavoratori deriva dal calo demografico che nasce da anni e anni e anni di una politica fatta dalla sinistra contro la famiglia contro la famiglia perché qualsiasi incentivo alla famiglia trent'anni fa era vista come ritiriamo fuori le leggi musulmane sulla famiglia perché me le ricordo allora questa è una tendenza penso che abbiamo avuto un buco vent'anni fa di idiozia di idiozia che adesso va recuperato abbiamo tanti lavoratori immigrati quindi bisogna accogliere loro perché non è che possiamo solo importare altri consigliere Orsel bisogna invertire la tendenza della natività della popolazione locale autoctona se mi permette perché non faremo solo un'importazione una sostituzione ma nessuno vuole sostituire ma nessuno vuole sostituire io sto segnalando che anzi molti noi abbiamo una diaspora in questo momento una diaspora dei nostri dei nostri giovani ma la diaspora dei nostri giovani formati di alta formazione ce l'hai solo se cerchi di portare industrie imprese ad alta formazione qui ed è quello che sta facendo il presidente Federica che non va a visitare i Fogolar Furlans come i presidenti precedenti va a incontrare il presidente degli Stati Uniti i governatori degli Stati degli Stati Uniti c'è forse quasi un altro va bene grazie abbiamo anche sorriso un po' va bene ci sta grazie ad Antonio Calligaris grazie a Furio Onsel entrambi per essere stati qui con noi buon lavoro buona giornata grazie piccolo break torniamo tra pochissimo eccoci qua di nuovo insieme a Friuli in diretta allora intanto saluto il nostro ospite qui perché parleremo di qualcosa di molto interessante distensivo delle api e quindi saluto Luigi Capponi presidente del Consorzio Epicoltori di Udine benvenuto allora prima di entrare perché poi qui vedo libri, miele abbiamo un sacco di cose da dirci volevo capire se Francesco Pezzella era pronto per un collegamento flash per quanto riguarda la situazione della palazzina in Val Saisera quella che è stata subito quell'incredibile incendio con conseguenze davvero pesanti per le famiglie che ancora non sono nelle loro case e con la bonifica che è cominciata ve l'abbiamo raccontato prima ora possiamo tornare per un flash proprio da Francesco per farci raccontare un pochino i dettagli di queste operazioni Francesco grazie siamo tornati qui perché abbiamo poi realizzato delle immagini all'interno dove è partito il tutto naturalmente la stanza lo scantinato e dalle immagini che la regia può far partire si vedrà anche lo scantinato è stato posto sotto sequestro la porta è chiusa quindi all'interno del locale dove è avvenuta l'esplosione non è possibile entrare però tutto intorno come potrete vedere dalle immagini si vede benissimo il livello di devastazione del fumo e delle fiamme quello che è successo nel momento in cui è partito il rogo e poi si è sprigionato il fumo che ha raggiunto tutti gli appartamenti della scala B di questo condominio Ater di via Val Saisera ti posso dire che all'interno naturalmente è difficilissimo rimanere per più di qualche minuto senza una mascherina o senza coprirsi comunque la bocca perché l'odore ma anche direi il chiamiamolo così il sapore che arriva che è bruttissimo naturalmente che si avverte ti resta addosso e non va via per parecchio tempo dunque è una situazione davvero che abbiamo documentato con le immagini che vedete difficilissima anche per chi ci deve lavorare naturalmente gli operai della ditta che sta operando la bonifica sono attrezzati per fare questo tipo di attività ma questo per farvi capire per rendere l'idea chi ci sta ascoltando di quanto sia davvero importante poi fare una bonifica completa e togliere tutta questa sensazione l'odore di bruciato che arriva e che ti rimane addosso per consentire naturalmente alle persone di rientrare in sicurezza ma anche in condizioni igienico-sanitarie e senza rischi per la salute perché c'è il rischio di respirare queste sostanze non c'era più monossido di carbonio già dopo un paio di ore tre ore dopo l'esplosione e dopo che il fumo aveva invaso gli appartamenti però per tutto il resto naturalmente non è una situazione salubre quella che si è generata all'interno delle case ed è stato necessario avviare questa bonifica approfondita abbiamo parlato un po' con chi sta lavorando ci hanno spiegato che anche loro che è difficilissimo fare un'ipotesi sui tempi di conclusione di questa operazione ci hanno fatto vedere alcune cose e ci hanno detto che in pratica il fuoco e poi il fumo è stato tirato su come se fosse una enorme canna fumaria di un camino questo è quello che è successo si è creato il vortice di aria che ha tirato sul fumo che è finito in tutte le abitazioni immagini straordinarie che abbiamo realizzato grazie ad un operatore di eccezione oggi Stefano Giovampietro che è qui con me dietro la telecamera nel nostro telegiornale di questa sera faremo di nuovo il punto per raccontarvi quello che oggi abbiamo visto e che abbiamo raccolto qui nel condominio Atel di via Val di Saesera perfetto grazie mille Francesco Pezzella e anche a Stefano Giovampietro per queste immagini che documentano veramente la situazione difficile insomma per queste famiglie per cui rientro a casa veramente sembra davvero lontano va bene parliamo di qualcosa di più bello e di qualcosa di più dolce perché qui abbiamo del miele e stiamo parlando caro Luigi di un periodo dell'anno che adesso comincia in cui cominciamo ad ammirare le api e ad avere anche qualche problema con le api leggo 500 richieste di intervento 2000 telefonate l'anno scorso in primavera alla polizia locale vigili del fuoco per problemi legati alle api certo questi sono i numeri quindi stiamo per ripiombare in questo fenomeno sì è un fenomeno io dico sempre è un fenomeno naturale certo che si ripresenta ogni anno ovviamente perché le api in questo periodo nel momento in cui vedono e sentono soprattutto che comincia ad avere un'attività produttiva l'ape stessa e devono fare una scelta e quindi molto probabilmente succede sempre così l'ape vecchia l'ape regina anziana esce dalla famiglia originaria e va a costituire un'altra famiglia questo è un elemento importantissimo per le api perché è l'unico mezzo che loro hanno per propagare la specie perché finché la regina rimane dentro la propria famiglia aumenta soltanto il numero degli individui che la compongono nel momento in cui lei esce da una famiglia se ne formano due quindi è una cosa completamente naturale certo che se uno non sa come si deve comportare crea un pochettino di tensione di paura soprattutto perché poi l'ape quando punge punge bene insomma esatto esatto e quindi cosa succede l'ape regina si sposta si sposta e viene seguita da tutta una serie di api che la devono accudire che sono le api bottinatrici per fare un esempio vi posso dire che in questo momento magari non tanto quest'anno perché c'è un tempo che non è per la quale in effetti in una famiglia possono trovarsi 50.000 individui di questi 50.000 individui la metà 25.000 sono bottinatrici la metà di queste seguono la famiglia seguono la regina anziana l'anzi vecchia regina ma prima di andar via devono prelevare del miele perché quello lì serve per il mantenimento della regina stessa e di tutto quanto la famiglia medesima quindi devono cominciare a fare le loro costruzioni e utilizzano il miele che portano via da quella famiglia ok e quindi è piuttosto problematico soprattutto per l'apicoltore perché nel momento in cui una famiglia sciama automaticamente da quella famiglia non si produce miele ho capito quindi è un momento problematico per l'apicoltore è un momento naturale per loro è un momento di preoccupazione per chi poi si vede questi sciami in casa in giardino su un albero spesso è successo nel mi ricordo la scorsa primavera in Centro anche in Centro Città in Piazza Duomo in Piazza Duomo su una motocicletta mi sembra su una roba del genere queste migliaia di api che ronzavano ok e c'è stato un nostro associato mi sembra che sia proprio Luigi Petrin che è andato per poter prelevare questo sciame è di facile anche si fa facilmente ecco si recuperano facilmente però la gente non lo sa e quindi si spaventa la gente si spaventa ho detto prima che le api bottinatrici quando escono si devono portare via il cibo e per farlo come fanno si rimpinzano di miele e lo deposito nell'ingluvie che è una specie di sacca contenitore all'interno del loro organismo questo fa in modo che le api siano rabbonite tutte quante perché non possono flettere l'addome e quindi tirare fuori il pungiglione e pungere per cui io dico questo adesso a tutti innanzitutto è fatto di vieto uccidere anche una sola ape perché le api sono importanti e vedremo magari io credo dopo per quanto per la produzione del nostro cibo ma queste devono essere salvaguardate per cui nel momento in cui un individuo riesce a trovare un si chiama glomere questo ma comunque un ammasso di api non deve fare nulla non deve andare con un bastone cercare di buttarle via perché loro questo lo vedono come un segnale di pericolo e attaccano quindi perché le api sono buone finché le tratti da api normali nel momento in cui tu fai un'azione che potrebbe essere anche violenta in uno dei confronti loro la reagiscono con l'unico mezzo che hanno cioè il pungiglione che viene ok quindi assolutamente è vietato ucciderle non andiamo lì con il questo è il coso due non spaventiamoci perché in teoria sono gonfie di miele non vogliono pungerci esatto che hanno altro da fare però se andiamo a disturbarle ce le andiamo a cercare se le andiamo a cercare quindi non fare nulla semmai chiamare qualcuno di voi o i vigili del fuoco i quali sono dotati di un nostro elenco nominativo delle persone che vanno a raccogliere questi sciami e sono abilitati a farlo e sono abilitati anche in modo gratuito dico e aggiungo oppure chiamare direttamente il nostro consorzio il quale attiva quella persona che si è resa disponibile per la zona dove c'è stata la segnalazione e andiamo certo che se in una giornata ci sono 500 come c'è stato 500 richieste di intervento fate un po' fatica facciamo fatica bisogna avere un po' di pazienza possiamo dire anche un'altra cosa spesso e volentieri le persone ci chiamano perché abbiamo delle api dentro i cassonetti la maggior parte delle volte abbiamo visto che queste api non sono ma sono espe quindi sarebbe anche da fare un discorso sulla differenza vogliamo distingue ce le descrive bene per non sbagliarci allora per non sbagliarci le nostre api sono api mellifere che sono un incrocio fra l'ape ligustica e l'ape carnica che è un'ape originaria di queste zone e normalmente sono piuttosto scure oppure possono anche essere giallognole diciamo con delle righe scure si differenziano perché sono molto più pelose delle vespe le vespe sono un po' più diciamo longilinee e hanno una colorazione vivace giallo nera giallo nera quelle si riconoscono molto bene poi non è che queste vespe che sono normalmente nelle nostre case fanno nidi enormi come possono essere i calabroni che possono avere anche oltre 600 individui se non mille insomma quindi è facilissimo riconoscere ma la gente sa com'è non lo sa piuttosto di mandarsi mandare via quel problema chiamano chiunque ok quindi le vespe sono quelle gialle nere belle colorate non ci possiamo sbagliare che non hanno pelli eccetera le api sono forse anche un po' più piccoline sono più piccoline più piccoline con un colore più indefinito un po' più pelosette sì l'ape come minimo è un centimetro un centimetro e due millimetri insomma la vespe un po' più grandicetta quelle non si devono toccare le api perché sono fondamentali lo diceva lei eh sì sono fondamentali per la nostra natura per il territorio per la biodiversità vegetale perché loro contribuiscono a poter fare determinate cose per esempio io ho sempre detto c'è quella frase famosa attribuita erroneamente a Einstein quando si diceva che morirà al momento in cui morirà l'ultima ape all'uomo resteranno quattro anni di vita questo non è stato mai detto da Einstein l'hanno utilizzato perché è attorevole è forte però io vi posso dire una cosa che sicuramente sarà così morta l'ultima ape noi non riusciremo più a mettere sulle nostre tavole le cose che mettiamo sulle nostre tavole adesso parlo dei frutti la maggior parte dei frutti hanno bisogno dell'impollinazione dell'ape l'ape non fa soltanto il miele l'ape è importantissima per l'impollinazione che serve a tutti quanti noi e serve alla biodiversità anche ovviamente certo quindi assolutamente massimo rispetto massima protezione per questo animale così importante assolutamente ok quindi abbiamo detto se succede un fenomeno a casa vostra di quelli che state vedendo nelle immagini avete capito chi chiamare voi poi come agite come fate a portarle via a portarle via allora abbiamo come dicevo prima quelle persone che sono rese disponibili andare a prenderle noi ci vestiamo ovviamente con le nostre casacche quindi protetti eccetera e dopo se sono appese normalmente si appendono posso spiegare un attimo che cosa significa questo glomere cosa succede? succede che la regina esce trova un posto e va a inserirsi in quel posto automaticamente tutte le api vanno attorno a lei e fanno questa glomere come si dice perché lo fanno? per difendere la propria regina la regina è l'unica di tutte quante le femmine che sono all'interno lei sa benissimo che è una società matriarcale comandano le donne e comandano bene fra parentesi funziona molto bene con la famiglia cosa succede? succede che è l'unica regina feconda è l'unica femmina feconda per cui loro dovevano proteggere il loro patrimonio genetico e quindi si agglomerano direttamente attorno alla regina quando sono appese molto alte la cosa migliore da fare è chiamare i vigili del fuoco perché i vigili del fuoco vengono con il loro carro attrezzato con il tabattello o quello che è arriviamo sotto e poi ci sono i nostri che sono capaci normalmente vengono con un'arnietta che si chiama proprio arnietta prende sciame certi la bagnano questo glomere perché così diventa un pochino più pesante poi gli danno un colpo secco al ramo o quello che è e tutto lo sciame cade dentro il nido e il nido viene poi chiuso e la sera poi viene ripreso perché così tutte quante le altre api che sono in giro tornano a casa e noi possiamo prendere senza nessun danno per le api e soprattutto anche per la popolazione che però bene questo abbiamo detto insomma lo possiamo fare senza paura assolutamente affidandoci agli esperti quando è che invece dobbiamo avere paura prima citava i calabroni poi magari anche quelle sono un passaggio con l'estate la frutta vanno a succhiare si formano anche lì spesso delle concentrazioni di calabroni che sono preoccupanti in questo caso che cosa si deve fare? Allora il calabrone adesso mi secca dirlo ma può essere ucciso per cui perché non è tutelato voglio dire ci sono degli spray appositi che possono lanciare il loro liquido anche a 7-8 metri se uno lo trova lo schiaccia se no può chiamare sempre i vigili del fuoco che sono abilitati anche loro per fare questo tipo di attività la differenza che c'è fra un calabrone e una vespa perché anche il calabrone è una vespa e le api è che quando l'ape punge muore subito dopo muore perché ha il pungiglione seghettato e siccome noi siamo rivestiti di una pelle che è dell'epidermide che è elastica si restringe subito dopo nella seghettatura del pungiglione e l'ape quando va per andare via non ce la fa e quindi tira, tira e strappa anche una parte dell'intestino subito dopo muore il calabrone e le vespe in genere invece questa seghettatura non ce l'hanno per cui possono pungere anche 7-8 volte sono molto più pericolosi e per fortuna che noi non abbiamo ancora in Friuli la vespa velutina che è una vespa tremenda di importazione anche questa del sud-est asiatico che sta cioè arriva anche la vespa asiatica è già arrivata è già arrivata prepariamoci pensi Friuli ancora no ma in Veneto qualcosa sesso ha cominciato ad arrivare la vespa asiatica la vespa si la vespa chiamiamola così per piacere la vespa velutina questa qui è in grado di interrompere l'attività delle api e quindi interrompe l'attività della popolazione perché le terrorizza si mettono proprio in convolo fermo geostazionario davanti all'arnia e le api si interroggono si spaventano immediatamente non escono neanche più fuori e non uscendo più fuori le bottinatrici non possono portare a casa il cibo e automaticamente la famiglia decade e muore come è fatta questa vespa asiatica questa la possiamo uccidere se la vediamo si si come no anzi c'è tutta una serie di personaggi che vanno in giro per cercare pensi che si ipotizza che solamente circa nove regine sono venuti in Europa nel giro di X anni mi sembra decina di anni quello che è hanno colonizzato tutta l'Europa sono venuti fino in Islanda nove solamente nove regine per dire quant'è si 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 riproducono ma come sono fatte le riconosciamo se le vediamo sono diverse diciamo perché hanno il torace nero e le zampette la parte finale delle zampe gialle si riconosce subito ed è di un rosso bruno praticamente noi nei nostri corsi che facciamo le facciamo vedere proprio per distinguerle da quello che sono quelli sono un pericolo non soltanto per l'individuo perché lì sono 1200 anche di più di queste fanno dei fanno dei nidi che sono di un metro e dieci sono così grossi mamma mia e lì c'è tutta quanto una serie di personaggi che vanno in giro a ricercarla con tecniche diverse eccetera perché devi essere abilitato a uccidere perché loro attaccano passi lì vicino attaccano l'ape se tu passi vicino non li lasci stare non fa nulla loro invece attaccano e attaccano in 600 basta una quarantina anche di meno di punture e praticamente è chiuso beh questa non è una buona notizia quella che ci ha dato cioè c'è un po' così la buona notizia sa qual è che non ci sono inferiuli forse perché è ancora abbastanza freddo quindi loro prediligono il caldo perché sono abituati in un ambiente caldo umido va bene vedo qui dei libri perché poi il mondo delle api è affascinante le storie che ci ha raccontato qui staremo ad ascoltarle per ora è un mondo meraviglioso dettato da regole da spirito di appartenenza direi socialità molte solidali sì ed è davvero bello è importante diffondere queste storie per diffondere anche il rispetto per questo certo brava questo qui è giusto il rispetto noi siamo come consorzio della provincia di Udine facciamo attività divulgativa presso le scuole quest'anno lo stiamo facendo tantissima e questo libretto che lei vede è un libro che io ho scritto sì il magico mondo delle api sì insieme ad una nostra collega Roberta Bittolo che ha fatto dei disegni dove noi non riuscivamo a presentarli in altro modo perché quelli lì quel libro lì è stato fatto solo esclusivamente con i disegni fatti dai bambini delle scuole elementari e abbiamo detto ma perché buttarle via tutti questi bei disegni che ci sono eccetera facciamo un libro quella volta c'era l'assessore Barberio che ha c'era la provincia ancora che ha apprezzato molto questo progetto e ha finanziato la costituzione di questo libro la scrittura di questo libro l'abbiamo fatto e noi quando andiamo nelle scuole diamo a tutti i bambini che partecipano sia un attestato dove li chiamiamo difensori delle api e in più anche questo libro qui che sono poi alla fine ci sono anche dei giochini che loro possono fare quello è rivolto al pubblico diciamo dei bambini questo invece è il libro che viene dato per le per gli adulti diciamo ma anche leggendo questo tanti adulti possono imparare qualcosa dalle api perché tante cose non si sanno perfetto e qui c'è anche tutte le insomma le immagini e le definizioni dei vari tipi di api insomma dalla regina anche lì ovviamente dalla regina alla propera al fuco insomma tutto quello che ci può servire anche per capire bene e vedere nella realtà quello che lei ci ha raccontato oggi la ringraziamo per essere stato con noi è stato davvero un piacere sicuramente abbiamo dato delle indicazioni utili per le prossime settimane perché appena tornerà un po' di caldo eh sì cominciamo adesso fa freddo adesso è bloccato non c'è nessuno né l'ape né la vespa asiatica mi dispiace che ci sono c'è l'acacia che è quasi in fiore e la stavamo aspettando perché sono due anni che non riusciamo a fare miene di acacia che è il miele che maggiormente va è quello che crea reddito poi addirittura ai professionisti e non l'avete fatto per due anni perché? perché c'è stato vento c'è stata pioggia si ricorda l'anno scorso l'anno scorso in maggio è venuto 15 giorni di pioggia che ha praticamente distrutto tutti i fiori di acacia non abbiamo fatto un grammo di acacia è incredibile e adesso sarebbero pronte le acacce quasi quasi in due o tre giorni speriamo che vada avanti sto ciclone finisca perché se no qui anche quest'anno niente per fortuna che c'è la regione che in qualche modo ci aiuta ecco questo sì bisogna dirlo perfetto in bocca al lupo per le acace facciamo tutti il tifo per un po' di sole viva il lupo facciamo il tifo per le acace che le api possano produrci questo meraviglioso miele grazie davvero grazie per essere stato con noi la saluto grazie mille questo è tutto la vostra grazie grazie per gli omaggi allora vedo pronto Omar Costantini Omar vengo da te eccoci eccoci Giorgio come si dice in questi casi abbiamo fatto un VFC in diretta una notizia flash perché nella giornata di ieri un tunisino di 20 anni è entrato all'interno della caserma Cavarzerani intanto non era nemmeno ospite e in un momento di escandescenza ha preso una catena ha danneggiato la finestra della mensa e successivamente si è concentrato su un'auto in sosta appartenente a un operatore bengalese sono giunte celermente sul posto le volanti della questura insieme al radiomobile dei carabinieri il ventenne ripetiamo non ospite all'interno della struttura qui di via Cividale è stato successivamente trasferito in questura dove è stato denunciato insomma per lui poi conseguente foglio di via era come si dice una notizia flash ci troviamo in zona e dunque Friuli in diretta TV12 in diretta l'Aquila vola e ripassa la linea allo studio perfetto grazie grazie mille Omar Costantini per questo aggiornamento di cronaca siamo allo sport siamo allo sport e siamo a parlare della settimana di questi giorni intensi che ovviamente sta vivendo l'Udinese in vista dello scontro diretto di sabato allora in questo finale Cioffi dovrebbe avere a disposizione anche Brenner e Davis per lo meno questo si augura perché lo sapete già Tovenna insomma è infortunato non sappiamo quando potremo rivederlo in campo il recupero di questi due attaccanti sarebbe davvero importante vediamo l'Udinese si avvicina alla trasferta di Verona consapevole dell'importanza di una partita che vista la situazione di classifica potrebbe anche valere doppio vincere significherebbe non solo infatti tirare un enorme sospiro di sollievo ma anche ributtare giù un Verona che sta tentando come i bianconeri una disperata corsa salvezza Cioffi dovrebbe insistere con il nuovo modulo quel 3-4-2-1 che piano piano sta cominciando a convincere che stuzzica finalmente quei tifosi che sognavano da tempo un tridente che da troppo non si vedeva queste latitudini di sicuro gli infortuni di Lovric e Toven sono state due tegole di cui le zebrette avrebbero volentieri fatto a meno ma la profondità della rosa permette comunque al tecnico toscano di avere valide alternative se a centrocampo non ci sono grandi dubbi con uno tra Pacero e Sarraga che andrà a comporre la mediana insieme al brasiliano Wallace le grandi novità invece caratterizzano il reparto offensivo privo del francese l'elemento di maggior qualità della rosa ma pronto a riabbracciare i due grandi assenti fin qui della stagione dell'udinese ovvero Keenan Davis e Brenner il titolare ovviamente dal primo minuto sarà Lorenzo Lucca che insegue ancora la doppia cifra ma in panchina oltre a success Cioffi potrebbe finalmente avere due perine in più Davis dopo l'ennesimo acciacco fisico sta completando il recupero aumentando i giri del motore per farsi trovare pronto e strappare una convocazione per Verona Brenner invece sta a sua volta ultimando il programma personalizzato che lo staff gli ha cucito addosso dopo l'attacco influenzale e il viaggio in Brasile per i problemi familiari che lo avevano costretto a saltare una decina di allenamenti adesso entrambi sono vicini al top della forma in particolare il brasiliano che tutti sperano possa essere il grande protagonista di questo finale di stagione Cioffi che ha varato anche una modifica tattica nelle ultime due partite con una specie di tridente atipico con Samarzic alzato sulla linea della tre quarti dove sembra sentirsi più a suo agio in tanti hanno sempre chiesto a Gabriele Cioffi di provare a mescolare le carte dal punto di vista dell'assetto tattico della squadra tifosi e addetti ai lavori che lo hanno fatto avevano magari in testa un passaggio alla difesa 4 cosa che il mister in realtà ha giustamente rinnegato anche espressamente in conferenza stampa difficile cambiare un modulo che si è consolidato come vincente nella recente storia banconera anche perché andrebbe a minare le certezze che ora invece sono la cosa a cui aggrapparsi in un momento di difficoltà di classifica nell'emergenza però contro l'Inter vista l'assenza di Lucca per squalifica qualcosa Cioffi è cambiato e con buoni risultati ha barato infatti un tridente atipico che sta modificando l'idea di gioco delle zebrette e nella sua prima vera apparizione lo ha fatto con Toven falso 9 resta la curiosità se questa modalità offensiva sarebbe stata adottata anche senza l'infortunio del francese ma oggi il capitano Pereira è stato riportato dalla fascia destra alla linea di tre quarti con Samarzic a fare coppia con l'argentino alle spalle del riferimento offensivo questa modifica ha portato subito benefici nell'immediato visto che proprio loro hanno confezionato i due gol Samarzic contro l'Inter e Pereira contro la Roma anche se a fronte di errori delle squadre avversarie ma si sa contro le big non ci sono tanti altri mezzi per scalfire le difese l'esperimento è andato bene anche grazie a un easy bue che sta crescendo e all'apporto in termini di sacrificio del centrocampo in questo nuovo 3-4-3 o meglio 3-4-2-1 Wallace è quello che si becca il maggior surplus di lavoro per tenere sulla diga ma lo sta facendo molto bene grazie all'aiuto dei suoi alfieri verso l'Ovric per infortunio è toccato prima a Zarraga e poi a Pagero che non hanno offerto prestazioni scintillanti ma si sono rivelati ottimi scudieri per il numero 11 motivo per cui Cioffi salvo stravolgimenti continuerà su questo sentiero anche per la trasferta di Verona Invece si stanno organizzando per l'esodo i tifosi squadra che lavora sul campo concentrata e all'esterno i tifosi che preparano l'esodo ve lo stiamo raccontando in questa settimana sono 15 i pullman già allestiti c'è ancora qualche posto sul pullman messo a disposizione creato diciamo negli ultimi giorni per accontentare le ultime richieste vediamo Tutti a Verona il messaggio dei tifosi era stato chiaro fin da subito con lo striscione apparso all'esterno del Blue Energy Stadium nei giorni immediatamente successivi alla gara contro la Roma messaggio evidentemente recepito visto che al 20 godi sono attesi più di 1000 tifosi bianconeri che continuano a sostenere la squadra numeri che possono ancora crescere ma che hanno già superato quelli di Sassuolo nel giorno di Pasquetta 15 pullman già riempiti e altri ancora in attesa Certo già lunedì ci eravamo accorti del grande interesse quindi la UCI ha deciso di fare una corriera per aiutare per portare più tifosi possibili a Verona il dato dei biglietti fino ad oggi venduto sta superando le 1000 unità ci sono una quindicina di pullman che sono già allestiti e tra l'altro il problema da martedì era proprio quello di reperire il pullman perché complicità delle gite scolastiche non tutte le aziende di servizi potevano assicurarci un pullman o una corriera quindi l'appello è di venire da noi qua al Macro Store oppure chiamarmi ai numeri che sono indicati sulle locandine e che potete vedere appunto sul sito anche della UCI e prenotarsi qua c'è ancora posto quindi è una bellissima trasferta intanto è una bellissima trasferta perché si va con l'associazione Unidinezio Club e andare con l'Unidinezio Club è sempre una festa e poi sarà importante a esserci perché sarà una partita decisiva speriamo che insomma vada tutto bene però insomma dobbiamo far sentire il calore del pubblico e dei ragazzi insomma a Verona in una partita che si pronuncia in fuocata l'Udinese come sempre non sarà sola non sarà sola come non lo è mai stata davvero nel corso di questa stagione e allora vi rimandiamo alle 14.45 a pomeriggio Udinese per approfondire tutti i temi legati a questa giornata di lavoro della squadra di Scioffi che si è allenata questa mattina e che comincia ovviamente a fare il countdown in vista di questa sfida così importante domani ci sarà anche la conferenza di Gabriele Scioffi alle 13.30 ovviamente come sempre ve la mostreremo in diretta ci fermiamo qui grazie per averci seguito buon proseguimento di giornata